salve a tutti benvenuti sul mio canale in questo video vi mostrerò questo punto realizzato ad uncinetto come vedete un punto traforato molto particolare molto bello adatto proprio alla stagione estiva se volete però potreste anche usare questo punto nella stagione invernale con dei filati più spessi per realizzare tutti i vostri progetti spero che questo video vi piaccia per realizzarlo avete bisogno semplicemente del filato in questo caso per fare il campione userò del cotone e un uncinetto io userò il numero 3 iniziamo subito nella lavorazione del nostro campione per realizzare questo punto vado ad usare un filato in cotone e l'uncinetto adatto in questo caso il numero 3 per prima cosa faccio un nodino iniziale quindi filo corto sul dito fermo in questo modo giro vado a creare la x prendo l'uncinetto e passo questo filo da quest'altra parte e poi tiro via in questo modo si è formato questo anellino che andando a tirare si chiude fino a formare questo nodino che è il nodino iniziale della lavorazione per formare il punto andiamo a realizzare una catenella che deve essere multiplo di 12 più 1 quindi con il multiplo di 12 più 1 vado a fare un campione vado a realizzare un totale di 36 catenelle per fare questo campione 1 2 3 4 5 6 7 dopo aver fatto 36 catenelle che vi ricordo essere un multiplo di 12 vado ad aggiungere una catenella in quanto dobbiamo realizzare un multiplo di 12 più 1 per questo punto quindi ho fatto 36 catenelle che multiplo di 12 aggiungo una catenella a questo punto possiamo iniziare anche la lavorazione del punto per prima cosa facciamo 2 catenelle per salire quindi abbiamo aggiunto queste due catenelle per salire adesso salto una e due catenelle che si trovano più vicino all'uncinetto vado direttamente nella terza a realizzare 2 maglie alte 2 maglie alte 1 e 2 maglie alte sempre all'interno della stessa catenella poi salto due catenelle di base una e due vado nella terza e faccio una maglia bassa in questo modo ora vado a fare cinque catenelle volanti 1 2 3 4 e 5 salto 5 catenelle di base 1 2 3 4 5 vado nella sesta catenella faccio una maglia bassa adesso salto di nuovo 2 catenelle di base 1 e 2 e vado nella terza catenella dove andrò a realizzare il ventaggio che è formato da cinque maglie alte quindi ho saltato una e due catenelle di base vado nella terza e faccio cinque maglie alte 1 2 3 4 e 5 e abbiamo fatto il primo ventaggio di queste cinque maglie alte all'interno della stessa catenella ora salto 2 catenelle e vado nella terza vado a fare una maglia bassa in questo modo faccio di nuovo 5 catenelle volanti 2 3 4 5 salto 5 catenelle di base 2 3 4 e 5 vado nella sesta a fare una maglia bassa in questo modo ora salto 2 catenelle 1 e 2 e nella terza realizzo un altro ventaglio formato sempre da 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 salto poi 2 catenelle di base vado nella terza e faccio una maglia bassa in questo modo di nuovo vado a fare 5 catenelle volanti 2 3 4 5 salto 5 catenelle di base 3 4 5 vado nella sesta vado a fare una maglia bassa alla fine vi dovete ritrovare con 3 catenelle queste 3 catenelle che vi trovate alla fine andate a saltare 1 e 2 catenelle e nella terza facciamo 3 maglie alte 1 2 e 3 questo come vedete è il lavoro come si presenta facciamo adesso il secondo giro per prima cosa giriamo il nostro lavoro poi facciamo una catenelle volante e andiamo a realizzare una maglia bassa qui dove si trova la maglia alta del giro sottostante poi vado a fare 5 catenelle volanti 3 4 e 5 vado in questo archetto e realizzo una maglia bassa di nuovo 5 catenelle 2 3 4 5 qui abbiamo il nostro ventaglio salto 1 salto 2 vado qui nella terza maglia alta faccio una maglia bassa di nuovo 5 catenelle 2 3 4 e 5 vado a fare una maglia bassa qui in questo archetto formato da catenelle e di nuovo 5 catenelle faccio una maglia bassa nella terza maglia alta 1 2 vado qui e faccio una maglia bassa ancora vado a 5 catenelle 5 catenelle e poi vado a fare alla fine una maglia bassa nella terza catenella una maglia bassa qui nella terza catenella che ci ritroviamo in questo modo abbiamo fatto anche il secondo giro siamo arrivati al terzo giro giriamo per prima cosa il nostro lavoro poi andiamo a fare 5 catenelle volanti 1 2 3 4 e 5 qui in questo archetto in questo spazio faccio una maglia bassa poi vado direttamente qui dove si trova la maglia bassa che abbiamo fatto nel giro sottostante e vado a creare un ventaglio che è formato da 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 e ho fatto questo ventaglio adesso vado direttamente in questo spazio e vado a fare una maglia bassa faccio di nuovo 5 catenelle volanti e vado di nuovo in questo spazio a fare una maglia bassa a questo punto come abbiamo visto in precedenza vado a realizzare di nuovo questo ventaglio lo vado a realizzare dove si trova questa maglia bassa qui il ventaglio è formato da 5 maglie alte quindi dove abbiamo qui la maglia bassa vado vado proprio al centro e vado a fare 5 maglie alte 1 2 3 4 5 vado poi qui in questo spazio che mi ritrovo subito dopo e faccio una maglia bassa in questo modo poi vado a realizzare 5 catenelle volanti 2 3 4 e 5 e vado direttamente in questo spazio sottostante a fare una maglia bassa facciamo poi qui di nuovo il ventaglietto che è formato da 5 maglie alte quindi qui dove si trova la maglia bassa del giro precedente vado a fare questo ventaglio che è formato da 5 maglie alte alte 1 2 3 4 e 5 e poi vado direttamente qui che faccio in questo spazio una maglia bassa a questo punto alla fine della terza riga della terza fila vado a fare prima due catenelle volanti e poi vado a realizzare una maglia alta qui dove si trova la maglia bassa anche se non la vedete bene qui c'è la maglia bassa del giro sottostante e andate qui a realizzare proprio la vostra maglia alta in questo modo anche il terzo giro è terminato questo quindi è il terzo giro facciamo il quarto giro per prima cosa andiamo a girare il nostro lavoro in questo modo facciamo una catenella volante e poi vado a realizzare una maglia bassa qui proprio sopra alla maglia alta del giro precedente quindi vado a fare qui una maglia bassa adesso vado a realizzare 5 catenelle volanti 3 4 e 5 poi vado nella terza maglia alta del ventaglio quindi 1 2 e 3 e faccio una maglia bassa di nuovo 5 catenelle volanti vado in questo archetto al centro e faccio una maglia bassa proseguiamo facendo in questo modo tutti questi archetti fino alla fine questi archetti formati da 5 catenelle poi andiamo qui nella terza maglia alta e facciamo una maglia bassa ancora 5 catenelle e in questo archetto facciamo una maglia bassa fino alla fine arrivati alla fine ho fatto di nuovo 5 catenelle e ci troviamo con questo archetto con l'ultimo archetto e vado a saltare una catenella 2 vado nella terza catenella che si trova qui e faccio qui l'ultima maglia bassa di questo giro e anche il quarto giro è terminato in questo modo siamo arrivati al quinto e ultimo giro per prima cosa giriamo il lavoro in questo modo per prima cosa vado a realizzare 3 catenelle volanti 1 2 e 3 nella terza catenella a partire dall'uncinetto vado a fare 2 maglie alte quindi salto la prima salto la seconda vado nella terza e realizzo 2 maglie alte poi vado in questo archetto che si trova subito dopo e faccio una maglia bassa poi faccio 5 catenelle e di nuovo una maglia bassa qui in questo archetto poi vado direttamente qui dove si trova la maglia bassa del giro sottostante a realizzare il ventaggio che è formato da 5 maglie alte quindi facciamo 5 maglie alte in questa maglia bassa del giro sottostante 3 maglie alte 4 e 5 andiamo in questo spazio subito dopo a fare una maglia bassa di nuovo 5 catenelle 2 3 4 e 5 in questo spazio sempre una maglia bassa di nuovo 5 catenelle anzi scusate dopo aver fatto la maglia bassa in questo spazio vado direttamente nella maglia bassa che si trova qui e vado a fare di nuovo un ventaglio che è formato da 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 e subito dopo vado a realizzare in questo spazio una maglia bassa di nuovo 5 catenelle 2 3 4 5 vado qui in quest'ultimo archetto e faccio una maglia bassa poi a questo punto alla fine del quinto giro vado a realizzare qui dove ho fatto la maglia bassa 3 maglie alte quindi qui dove sta dove si trova la maglia bassa vado a fare 3 maglie alte 1 2 e 3 e abbiamo finito in questo modo anche il quinto giro di questo punto adesso per proseguire nella lavorazione dovete semplicemente ripetere dal secondo al quinto giro ogni volta quindi tornate indietro nella registrazione andate partite dal secondo giro al quinto per fare in modo che venga questo motivo quindi potete proseguire fino a realizzare quello che è il vostro progetto vi ricordo sempre partite dal secondo fino ad arrivare al quinto giro per realizzare questo motivo come vedete io ho proseguito nella lavorazione e ho utilizzato un colore diverso per farvi vedere proprio l'effetto di questo punto che come vedete veramente molto bello molto particolare si alternano questi ventaglietti a questi archetti più aperti che rendono appunto questa lavorazione adatta proprio al periodo estivo il punto presenta sia un dritto cioè questo che vedete e un rovescio quindi non è uguale ad entrambi i lati con questa lavorazione con questo tipo di punto potete realizzare una sciarpa estiva se la realizzate più larga e lunga potete fare anche una stola molto bella adatta anche ad una cerimonia oppure potete anche realizzare se vi va una maglia realizzata a pannelli facendo due pannelli e poi andandoli ad unire spero come sempre che questo video vi sia piaciuto che questo punto sia di spunto proprio per tutte le vostre creazioni se sì lasciatemi un bel pollice in su iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri video creativi io vi saluto e noi ci vediamo per un prossimo video tutorial ciao